Ancora a file interminabili agli uffici postari, il servizio di poste italiane lascia davvero a desiderare, in particolare nei giorni estivi, a causa del personale ridotto per via delle ferie. A farne ovviamente le spese sono gli utenti costretti ad interminabili file sotto il solleone invece di godersi il mare e la spiaggia. Da Ragusa a Modica, passando per Pozzallo, a cui si riferiscono le immagini, le lamentere dei cittadini non si contano. Per pagare una bolletta si deve fare anche un'ora di coda come minimo fuori dagli uffici postari, non in grado di contenere questo sovraffollamento di utenti, più fortunati dei quali almeno possono godere dell'aria condizionata durante l'attesa. Più disagi invece per coloro che devono aspettare fuori dall'ufficio sotto il solle coccente. È diventato per me una cosa incredibile pagare dei bollettini postali. Da martedì scorso che cerco di andare qui a Pozzallo e trovo almeno davanti a me 100 persone. Ho un ufficio, sono un imprenditore e sono da solo, tra l'altro, il periodo estivo. Non riesco a capire il problema. Sarei felice che qualcuno prenderebbe provvedimenti. Quel che è peggio, la situazione non sembra destinata a migliorare nell'immediato. Grazie a tutti.